Si gioca per i piazzamenti play-off e per la permanenza perché nelle ultime tre giornate, a meno di clamorosi suicidi sportivi, nessuno potrà togliere al Manfredoni il primato del raggruppamento. I sipontini guidano con otto punti di vantaggio sulla seconda Bisceglie e domani cercano la certificazione della prima posizione sul campo dell'Unione Calcio Bisceglie. Proprio l'Unione Calcio nutre ancora speranze di aggancio agli spareggi promozione. La vice capolista sarà invece di scena sul campo del Polimnia, trasferta a San Marco in Lamis per il Corato. Ad infiammare la corsa per la permanenza è stato il recente cammino del Foggia in Cedit che domani si gioca tutte le sue fish nello scontro diretto esterno sul campo del Real City. 12 i punti da recuperare dalla terza ultima, accorciarne qualcuno può valere i play-out per i Foggiani. Non c'è alternativa al Blitz. Trasferta Mola per l'Ortanova mentre il San Severo ospita il Borgo Rosso Molfetta a completare il quadro la gara tra Canosa e Trani.